no buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione e oggi parleremo un po di storia di storia nella prima guerra mondiale ragazzi e si utilizzava l'ipnosi per anestetizzare i mutilati di guerra e sottoporli ad operazioni chirurgiche considera che la prima guerra mondiale 15 18 1915 1918 ancora non era stato inventato il cloroformio quindi la sostanza chimica per anestetizzare non far sentire dolori a chi veniva amputato una gamba eccetera eccetera prima della prima guerra mondiale altri grandi medici poradiati dall'albo dei medici come e gli odson e sdai e e altri e ancora che adesso non mi vengono i nomi o eseguivano operazioni chirurgiche amputando gambe compagnia bella e anestetizzando l'ammalato la persona bisognosa con la sola potenza della parola ora chi aveva il potere chi esercitava l'ipnosi oppure la persona che con il potere della sua mente premema off e non sentiva più dolori non credere al sottoscritto ancora una volta prova ad andare su wikipedia su internet sulla storia su fonti accreditate e digitalizzare scrivere ipnosi e prima guerra mondiale e vedrai tutta una carrellata di informazioni dove magari esclamerai wow perché non so questa cosa perché nei libri di storia non si parla di questo e si conosce solo la parola ipnosi dagli spettacoli dai circhi dalle trasmissioni televisive dall'ipnosi da spettacolo perché 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 anche dai film perché i poteri forti poi ci hanno trasmesso la paura dell'ipnosi se rifletti infatti molta gente ha paura dell'ipnosi perché ha paura perché chiediterò il perché perché se tu hai se ti viene messo a conoscenza che tu nella tua testa hai il potere di cambiare la tua vita in salute in benessere in ricchezza nelle relazioni sociali pubbliche familiari beh dopo tu sei libero dalle catene sei manipolabile sei manipolato oppure sei un prodotto un servizio per qualcuno oppure no rifletti su questa grande verità profonda verità e la mia missione è quella di sdoganare l'ipnosi di rendere l'accessibile al pubblico di non far avere più paura della parola ipnosi perché ripeto ai poteri forti usano l'ipnosi di massa tutti i giorni dai tg paura da altre trasmissioni strappa lacrime senza utilizzare la parola ipnosi eppure tutti siamo condizionati e manipolati ora perché non utilizzare gli stessi strumenti delle leggi della mente al nostro vantaggio o almeno provarci ok perché non è richiesto il tuo credo perché l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola non è né religione né politica io noto molta gente che preferisce evitare il fallimento evitare di cadere evitare di sbagliare evitare che gli altri la massa la gente il paese inzuppino il famoso biscottino nel latte piuttosto che vivere l'ebbrezza della vittoria l'ebbrezza di l'ebbrezza di è scattata qua la sveglia non fa nulla ragazzi io sto filmando in diretta per cui non mi interessa la perfezione la lascia ai perfettini io vado avanti per la mia strada per cui ripeto ancora una volta la tua mente è potente usala magari utilizzando il metodo giusto di ipnosi vera e professionale il mio metodo metodo di cese il dottor claudio sorracino che proviene ripeto ancora una volta da los angeles dalla dottoressa lina brunini dal professor miglianchi leggerà i miei maestri i miei mentori i miei associati l'associazione ipnoleggi associati che conta medici psicoterapeuti psicologi di caratura internazionale e non per cui prova 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 la tua vita cambierà come è cambiata la mia quella dei miei cari e centinaia e centinaia di persone in italia all'estero che ho aiutato con il mio metodo da più di 10 anni non credere fai mandami un'email a ipnoleggi associati che ho già la libro punti e ti risponderò gratis a tutti i tuoi quei siti problemi risoluti risoluti che non hai mai risolto con nessun guru eccetera eccetera ti dirò come fare visse la mia fanpage su facebook ipnosi avuto ipnosi del dottor claudio sorracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio sorracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid che cambia la vita a lui a te e visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio sorracino al prossimo video un bacio un abbraccio grazie grazie grazie